Si sono verificati ancora oggi degli abbandoni rifiuti e creano delle piccole discarie soprattutto nelle zone di conferimento presso i cassonetti. Abbiamo deciso appunto di intervenire ancora una volta installando 5 nuove fototrappole che saranno dislocate un po' su tutto il territorio, sia in frazione sia in città. Questo perché la fototrappa ci consente di coprire nell'arco delle 24 ore sia a diurno sia nel notturno chi ha il mal costruito appunto di abbandonare fuori i rifiuti. Questo si spera riesca a essere un deterrente appunto in queste situazioni diventano incresciose per tutti i cittadini perché vedere insomma un poco decoro all'interno nelle vicinanze dei cassonetti è il sintomo insomma anche di poca considerazione del territorio. Teriamo appunto questo rapporto 6 che comunque ci aiuta in questa installazione soprattutto anche con l'utilizzo degli ispettori ambientali avranno la funzione di coordinare sia il controllo sia l'informazione dei cittadini se riesca a prevenire appunto questi disagi e tutto oggi ci sono.